Vi presento il mio nuovo amico, il BeatBuddy! Se io chiudo questo gioco, lui muore, per sempre! No ragazzi, ragazzi, non sto scherzando, prendiamoci un momento per riflettere su questa cosa. Se io prendo il mouse e chiudo il gioco, lui muore! Non possiamo più giocarci, perché muore, per sempre! Cioè, ogni qualvolta voi aprite questo gioco, lo trovate morto! Quindi, dovremo trovare il modo per farlo sopravvivere, facendolo mangiare. Mangia! Ah, non ho fame! Mangia lo stesso! Mangia lo stesso! Fidati che è buono! Questa è una dieta a base di cibo in testa, mamma mia! Comunque ha visto la guerra! Cioè, veramente, le armi da fuoco, non dorme da 32 giorni, poverino! Guardate gli occhi, c'ha più occhiaie di me! Ok, io continuerei a dargli da mangiare! Stop! Non lo voglio! Fidati! Sai che cosa vuoi? Mo ti faccio vedere io un hat buddy! Eh? È il tuo compleanno! Dovresti essere felice del mio regalo! Guarda come sei sexy! Guarda quanto sei carino! Più o meno continuerò a farti mangiare! Mangia! Ma che cosa sono quelle noci di cocco? Anguria ananas! Ma magari potessi mangiare anche io sempre anguria ananas! Il cocco un po' meno, perché solo per aprirne uno ci vogliono tre martelli e quattro testate! Oddio, forse anche i cinque testati, io mi ricordo che da piccolo sono arrivato a almeno quattro testate e mezzo e poi l'ho aperto! Anche la mia testa si è aperta, ma questi sono dettagli! Dai! Mangia! Mangia, piccolo, beat buddy! Ragazzi, com'è? Lo chiamiamo? No, non essere spaventato! No, in che senso il gioco potrebbe crashare? Quindi questo vuol dire che io potrei morire! Usa questo! No, no, devi mangiare, bro! Devi mangiare, bro! Mangia, io ti seppellisco sotto il cibo! Stavo dicendo, prima che sta bestia mi interrompesse, non uso il pulsante! No! Muori! Cioè, no, oddio, devo per forza premere il pulsante! Stavo sempre dicendo, come lo chiamiamo? Io pensavo a Marcello, per stare sul classico, visto che lo stiamo maltrattando! Dai! Mangia! Mangia una piramide di cibo! Gli antichi egiziani costruirono, grazie agli alieni, le piramidi! Io costruisco le piramidi di cibo su questa bestia verde! Va bene, hai visto? Ti ringrazio! Sììì! In che senso puoi farmi divertire? Ok, va bene, iniziamo con cosa? Oh, giochiamo a un gioco! Va bene! Posso fare play? Sììì! Facciamo play! Palle catturate! Ok, nessun problema! Ne ho presa una! Ah, lui mi lancia le palline e io le devo prendere al volo! Facciamo che io ti prendo... Aspetta, facciamo che io ti lancio il cibo e tu lo prendi al volo! Vai, vai, vai! Vai, io gioco con te e tu giochi con me! Vai! Sìììì! Divertiti! Aspetta, aspetta, aspetta! No, questo non lo riesco a prendere! No, sì, se me lo lanci là davanti! Ok, vai! Ma se io faccio il clear nel momento in cui lui mi lancia la pallina... Ma vedi, sono un mago! Oh, è sparita, hai visto? Perfetto, perfetto! Ancora un altro pochino! Sì? A posto! Yeeey! Congratulazioni! Grazie! Adesso... Adesso mangi? È stato divertente, vero? Sì, sì! Se vuoi... Guarda che le ho già pulite, imbecille! Ho già pulito tutto! Ah, ok! C'è scritto cleaning up objects! C'è nel senso che sta pulendo! Mi so cagato addosso! Pensavo... Pensavo fosse... Morto! Eh, infatti! Infatti, pure lui l'ha detto! Pensavo di essere morto! Sì, bro! Guarda con che faccia mi sta guardando! Tipo... Pensavo di essere morto! Non sono morto! No, non sei morto! Oh, sì! Che cosa? Non ti piacevano le palline? Non erano... Divertenti? Ah, ok! Quindi questa è una specie di free trial di questo gioco che ha degli altri minigiochi all'interno! Abbiamo una missione! La mia missione è farti mangiare! Mangia! Mangia, piccolo BitBare! Berbare! Berbare! Bere, 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 bere! Am, bim, ben! Zigul in, zigula! Va bene, scusa! Mi sta guardando male! Non c'è bisogno di guardarmi male! Io ti voglio bene! Più o meno! Tra l'altro ho scoperto che ci sono tantissimi altri promo code! Tipo... Burger Buddy! Sì! E quindi? Cadono anche gli hamburger! Guarda, cadono anche gli hamburger insieme a tutto l'altro cibo! Dai, non ti possono non piacere gli hamburger! Dai! Dai! Poi abbiamo anche... Holiday! Eh, Holiday! Oh, Holiday! No, Holiday a quanto pare non funziona! Però abbiamo anche Sword Buddy! Gli altri li proviamo alla fine! Non lo so, questo! Wow! Ah, lui si chiama Mopders! Per gli amici Marcello! Ah, devo cliccare! Oh, guarda, guarda! Ok, devo cliccare e ammazzare questi imbecilli! Perfetto! Il mio Marcello Ders... Il mio Mop Ders! Detto anche... Michele Marcello! Ah! Recupera vita! Più 10 di vita! Più 10% di chance critica! Eh no! Più 10% di chance critica! Oh! Oh, devi stare tranquillo! No ragazzi! Non mi può morire Moppers! Non mi può morire Moppers! Ok? Ma posso farlo mangiare anche mentre combatte? Mangia! Mangia! Ah! Ma attacca da solo! Ma attacca da solo! Ma ci sono rimasto male! Più critico! Più critico! Sì! Sì! Ma se io faccio clear stuff? Ah, non mi elimina anche i nemici! Guarda! Mangia! 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 Imbecile! Quali sono gli altri codici? Bagel Buddy! Non mi dire che... Aspetta! Bagel Buddy! A posto? Troppa anche i bagel? No, non funzion... No, no, raga, 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 c'è troppa roba, non vedo niente, c'è un brutto fantasma! Brutto ceffo! Brutto ceffo! Ti tiro un ceffone perché è un brutto ceffo! Io questa volta direi di curarlo completamente o... No, come i nemici più forti stanno arrivando? Allora mangia! Allora mangia! Vedi? Vedi? Cadono anche dei bagels! Dei bagels! Dei bag... Dei bag... Dei bag... Promo code abbiamo anche Lionel.exe! Avete sentito quello che ho sentito io? Il suono... No, aspetta, aspetta, è stato un caso! Lionel.exe! Aspetta, 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 aspetta! Lionel.exe! Senti! Senti che fa... Suono super creepy! Ok, recuperiamo la vita! Vai Mopders! Vai Marcello! Vai Michele! Come ti chiami tu? Vai, non ti preoccupare! Vai, distruggi tutti! Distruggi tutto! Distruggi qualsiasi cosa! Distruggiti anche tu da solo! Sì, sì, pieno di critico! Ah, quindi sotto abbiamo la nostra barra dell'esperienza! Direi di aumentare di uno l'attacco! Oh, tanto divertimento! Haha! Sì! Tanto divertimento! Il problema è che... Questi mi stanno facendo male! No, no, no! È morto? Ah, no! È finito il minigioco? No! No, no, no! Va bene, livello 7! No, mangia, mangia, che questo mo' mi muore! No! No, 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 no! Ah, non posso rigiocare il minigioco perché è solo una demo? Va bene, non essere triste! No, sarei morto! Questo si sta per mettere a piangere! Mangia! Mangia! No, in che senso c'è un'altra cosa? Che... Che vuoi? Ah, io non posso darti dei promo code, ma... Try Holiday! L'avevo già provato in realtà! Holiday! Ah! Non aveva funzionato! Non è apparso! Mi prude il naso! Ah, questo è bello! Vero! Sì, è bellissimo! Ci sono stato solo un'altra volta qui! Ma quella volta ero da solo! E adesso sono con te! Posso ucciderlo? Posso annegarlo? No, non posso... Annegarlo abbiamo vissuto dei bellissimi momenti, vero? Una meraviglia! Il cibo! Sì! Sì, l'ho portato a livello 7! Mamma mia, se l'hai segnato sul Death Note che gli ho fatto fa solo il livello 7! Comunque, quale cibo, bro? Bro, quale cibo ti devo spaccare la testa, bro? Che non hai voluto mangiare? Che... Che cosa? No, non voglio ammazzarti, ma figurati! No, figurati! Cioè, io ammazzare te! Ho chiuso il gioco! Adesso lo riapriamo, vediamo che cosa succede! Voi non state vedendo? Aspettate che vi faccio vedere che cosa sta su... Io credevo che chiudere il gioco e farlo morire fosse un modo di dire Non reale! Cioè, se faccio quit... Ho chiuso il gioco! Scusa, ma se io lo riapro... Raga, aspettate che mo' vi appare pure a voi che ci mette 46 minuti per apparire! Cioè, lui praticamente rimane così per sempre! Cioè, lui rimarrà su questa barca nel mare per tutta la vita morto! E quindi per tutta la vita relativamente! Perché la sua vita è già finita, però sicuramente arriverà verso il sole! Farà il giro del mondo in 80... ...milioni di anni! Perché tanto è morto!